Si svolta a Pineto un incontro chiesto dai commercianti con l'amministrazione comunale per affrontare le problematiche della categoria, derivanti dall'aumento vertiginoso delle bollette e dal calo dei consumi in atto, ma anche parlare di eventi in vista del Natale che possano attrarre i clienti. L'incontro è stato fatto per cercare di andare a correggere il tiro a quello che sta accadendo. In questo periodo noi commercianti siamo preoccupati sia per il discorso che quello che possiamo avere una mano dal nostro comune per il calo bollette, è una realtà che praticamente unisce tutta la nazione e tutta l'Europa. Il problema è che Pineto ha bisogno un attimo di essere rivitalizzato perché si sta spegnendo. Quindi noi chiediamo logicamente una mano all'amministrazione per cercare di venirci incontro anche di programmare un Natale un po' più ricco di, chiamiamoli, eventi, qualcosa che smuove un pochettino anche gli eventuali clienti che possono venire da fuori e tornare a Pineto. Bollette, inflazione e conseguente frenata dei consumi mettono a rischio il settore. Per questo motivo i commercianti del comune costiero hanno chiesto all'amministrazione di rilanciare il comparto e di abbassare le tariffe di tari e tassa sull'insegne. E l'installazione delle luminarie e l'organizzazione di eventi natalizi senza chiedere soldi agli esercenti altrimenti si rischiano diverse chiusure. Molte serrande si stanno abbassando, c'è il rischio che ce ne saranno altre quindi dobbiamo cercare di controbattere questa situazione. Non è facile perché tutti gli indici negativi dell'economia, l'inflazione, quello che purtroppo ci sta attanagliando. Cerchiamo un attimino in collaborazione con i nostri amministratori di vedere se riusciamo a fare qualcosa per andare a correggere questa situazione. Il comune ha fatto sapere che si impegnerà a riproporre un regolamento per l'accesso alle riduzioni e alle agevolazioni ai tributi scaduto nel 2021 per i nuovi insediamenti. Quanto alle luminari è stato chiarito che non verranno a mancare così come gli eventi natalizi per i quali verranno coinvolte anche le associazioni del territorio.